Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Moldarino Sport Channel, io sono Alessanderson per parlarvi della prima prova di velocità di questa Coppa del Mondo 2020-2021 di scia alpina per quanto riguarda il settore maschile. Stiamo parlando del Super G di Val d'Isère in Francia che è stato posticipato in una settimana per condizioni meteo avverse. Anche questa settimana le condizioni meteo non erano al massimo, quindi nevicata dura nel corso della gara e gara che purtroppo è stata accorciata. Già di per sé la pista non offriva grandi spunti ecnici, per di più è stata accorciata e diventata praticamente una durata di gigante perché il Super G è durato un minuto praticamente. Quindi una gara non esaltante che non ha dato grandi emozioni ma comunque la prima gara di velocità. Un'ottima prova di Mauro Caviezel che riesce a vincere. Non aveva secondo me fatto una prova perfetta. Poteva essere migliorabile ma appunto anche con il fatto che la pista si è deteriorata abbastanza velocemente e per di più con l'arrivo di Nuova Neve che si è depositata sulla pista. Diciamo che è diventato sempre più difficile riuscire a fare un buon tempo e quindi sono stati molto favoriti quelli partiti con un pettorale al di sotto del 10 diciamo. E quindi Mauro Caviezel è riuscito a difendere la sua prima posizione. Seijersed che gli partiva subito dopo ha fatto un'ottima prova e il norvegese un po' sorpresa che è riuscito a chiudere secondo a soli 10 centesimi. Tra l'altro fino al penultimo rilevamento era davanti a Mauro Caviezel poi sul finale ha perso qualcosina e questo gli è costato una possibile appunto vittoria. A proposito sto facendo questo video quando sono uscisi i primi 30 quindi c'è ancora qualche possibilità di inserimento ma non nelle primissime posizioni. Terza posizione per l'austriaco Walder che chiude a 54 centesimi. Quarta posizione per lo statunitense Genong un'ottima prova per lui uno di quelli che è partito con il pettorale un po' più alto intorno al pettorale 15 quindi un'ottima prova per lui visto che era già diventato molto difficile fare il tempo che chiude quarto a 76 centesimi. Poi Vincent Crickmayer quinta posizione a 77 centesimi lui è partito forte ma poi sulla curva diciamo l'unica curva un po' più complicata un po' più decisiva che era praticamente nel primo settore anzi tra il primo e il secondo settore praticamente è andato lungo e questo gli è costato parecchi decimi. Poi sul finale un ottimo recupero è stato uno dei più veloci nel tratto finale ma non gli è bastato per appunto chiudere sul podio comunque un'ottima quinta posizione per lui. Stessa posizione per Jansrud anche lui erroraccio brutto errore in quella curva lì la stessa curva in cui ha sbagliato Crickmayer ma ancora più marcato. Anche lui un ottimo recupero finale chiude sesto a 82 centesimi. Poi Pinturò, Pinturò autore di un'ottima prova ricordiamo che Pinturò appunto è specialista nelle discipline tecniche ed è riuscito a guadagnare punti per la classifica generale su Kilde e su Odermatt in una disciplina veloce come il Super G quindi veramente un'ottima prova di Pinturò che può essere solo che soddisfatto di questa gara. Pinturò che chiude il settimo a 86 centesimi. Un'ottima prova anche per l'italiano Christoph Inerofer che chiude ottavo a 88 centesimi quindi è soli 6 centesimi da Jansrud in sesta posizione quindi un'ottima prova per lui che anche lui è il ritorno da un infortunio quindi una buona prova per l'alto Atesino. Concludono la top 10 il tedesco Sander e il Beat Feuze. Per quanto riguarda appunto altri atleti diciamo di spicco come abbiamo già detto Kilde chiude dodicesimo una buona prova all'inizio è partito veramente fortissimo a cannone però due brutti errori. Uno sulla stessa curva di Krikmaier e di Jansrud e poi anche un altro successivamente dove si è toccato con gli scarponi quindi è un po' scivolato è andato un po' lungo quindi due brutti errori che gli sono costati. La gara che appunto ha buttato via la gara e ha buttato via dei punti che poteva guadagnare su Pinturò. Stesso discorso per Odermatt chiude subito dietro a Kilde in tredicesima posizione e quindi perde il pettorale giallo in favore del francese Alexis Pinturò. Per quanto riguarda gli italiani Paris chiude al momento in sedicesima posizione non una bruttissima prova ricordiamo che comunque è ritorno da un gravissimo infortunio la rottura del legamento crociato quindi tra l'altro la pista non era nemmeno adattissima alle sue caratteristiche e anche il fatto che è stata accorciata. Quindi tutto sommato non una brutta prova di Paris speriamo che su piste più adatte e con qualche chilometro in più nelle gambe possa ritornare diciamo il Paris si spera addirittura quello dell'inizio della scorsa stagione che era un Paris veramente spettacolare. Per quanto riguarda invece Buzzi chiude in diciannesima posizione si devono ancora scendere i vari casse tonetti eccetera eccetera. Comunque ragazzi direi che per questo video è tutto inviti a lasciare un commento e un piace di iscrivervi e seguirci anche sulla nostra pagina Instagram e ci vediamo a un prossimo video.